2013 frose sempre che tratti l'ho sempre chiamato fronte con la n il regno di ghiaccio allora ve lo dico mi sembra mai attendendo il mio parere per quanto riguarda piccola premessa che avevo detto tutte le altre puntate non l'ho mai mai visto sempre vista di anno fiere cosplay tanti ma tanti l'invasione di els e di anne e me l'avevano fatto tra virgolette odiare e quindi non avevo avuto quello stimo di guardarlo per voi solo per voi oggi sono andato a vederlo e devo dire che non mi è dispiaciuto ok mi è spiaciuto bello fatto bene l'effetto della neve tanta roba il ghiaccio neve fatto da dio cgi forse il miglior film in cgi fino adesso per me della disney come qualità non dico di no ho avuto due piccoli problemi il più grande problema che ho avuto è il presumo il primo tempo la prima inizio che io ho trovato troppe ma troppe troppe canzoni c'è ogni cinque minuti partiva una canzone ok il film disney ci sta però non so se fosse il film con più canzoni non lo so ma io no il film con più canzoni della disney alice nel paese delle meraviglie che una non se ne accorge perché sono filastrocche inframezzate benissimo in mezzo alla trama ma anche perché prima sai il film era proprio costruito sulla musica anche i vecchi personaggi di disney da biancaneve in poi si muovono a tempo di musica praticamente invece i film di oggi sono film normali musica i personaggi sono esattamente una due tre quattro cinque sei sette e otto nove dieci canzoni che no secondo me so di meno perché qualcuna poi è una ripena un reprise sì magari con i titoli coda titoli vabbè però io l'inizio primo prima parte del film veramente sono andato avanti non c'è fammi dire a storia fammi dimmi la storia a metà film e poi bene o male qualcosa succede praticamente quasi zero canzoni sono tutte concentrate se non sbaglio proprio al primo tempo secondo tempo c'è più film storia e secondo tempo non mi è dispiaciuto gli effetti mi sono piaciuti amati i personaggi non mi sono dispiaciuti ho adorato anna che io pensavo che non fosse così perché io vedevo vedevo persone vestite da anne da frozen e se non conosci bene personaggi interpretarlo non intuisci vedendo il film joanna l'ho adorata più di elsa elsa ho trovato tra virgolette anche un po arrogante un po per i cacchi suoi anna è più simpatica più umana chiamavano così per i personaggi olaf è carino mascottina niente di che pensavo che fosse chissà così come lo diceva bene c'è da dire questo poi lo dirò olaf è forse anche più di quello che che compare che appare tutto uno studio dietro che la prima visione tu non te ne accorgi tanto vedendo più volte come è capitato anche per ragioni contingenti a me quindi la storia bella mi è piaciuta nel senso abbastanza semplice però con buoni significati hanno dei bei significati che anche un adulto li capisce se vuoi quindi è un film che non sia per bambini diciamo a due versioni e le persone bambini poi vederla ti piace persone adulti che ha il significato che viene detto nel film e le canzoni mi ha detto se sono belle canzoni che mi uscivano dalle orecchie perché chi faceva gospel e andava sui palchi e faceva sempre quelle canzoni quindi sono andato anche amati per quello ho trovato dei buchi di trama sni forse non sono stato forse troppo attento io ma ad esempio è come fa avere elsa i poteri non viene spiegato mi parla no no all'inizio viene detto solo che ci è nata cioè ok come la cosa si capirà in effetti nel secondo film ok che ancora vedendo credo recuperare di colpa settimana prossima quindi ho trovato che buco sì ok nata però senza poteri cioè vabbè ci passo sopra tre virgolette un altro buco tra virgolette cioè i padri genitori che muoiono giusto con la nave che muoiono lasciano il regno alle due sorelle ma in tutti questi anni da quando sono morti i genitori alle sorelle che diventano grande non fanno vedere che che gestisce tra virgolette le redini del castello praticamente c'è un po di comprimari come c'erano i vecchi classici fammeli vedere anche con passate c'è qua scopre che alla fine c'è a parte quei personaggi che vediamo le con passate personaggi un po meno di rilievo non ci sono cioè fanno che c'era uno che magari gestiva il regno provvisorialmente per dopo lasciare le due sorelle minima storia no non viene detto niente vabbè queste sono due tre cose che bene o male mi hanno fatto un po storia molto veloce all'inizio i troll non ti vengono spiegati chi sono delle rocce lì che arrivano ma chi sono sicuramente ci sono un po di cose che non vengono spiegate per me magari vengono spiegate nel secondo non lo so questo non provvederlo quindi non lo so ma nel complesso vi dicono mi è dispiaciuto ma non è il mio preferito di questa puntata vi ho visto c'è un altro però nel complesso si bello l'immazionale effetti speciali tanta roba dal gigante di ghiaccio dai paesaggi dalla neve del ghiaccio promettanta roba fatto molto molto bene però ci sono alcune cose che come vi dicevo che troppe canzoni primo tempo cattivo di turno che più di cattivo ma si può neanche definirlo cattivo relativamente doppiaggio niente da dire top il doppiaggio e quindi questo per quanto mi riguarda me frose prima di sentire non recupero un po di commenti che me ne avete scritto il mondo spero di tutti toni polemica lo hai visto stefan cortina rifiutarti ok lui ho appena risposto squaku sono passati dieci dall'uscita di rapunzel 10 anni veramente così tanto si è sempre quaco ero in hype per l'uscita di questo film quindi presumo frose toni polemica non si può lamentarsi delle troppe canzoni lo stile disegniamo così se ci saranno anche giusto il livello pro io trovate troppe concentrate nel primo tempo c'è c'è spalmame in tutto il film po divisa ma io trovate veramente canzoni una dopo l'altra se c'era una battuta un'altra canzone un'altra battuta canzone e nel secondo tempo non c'è vero male la scuola di andare a cacciare elsa babbaba babbaba non ci sono più canzoni equilibriamo per me per il punto di vista e vi dico toni anche lui anna si anni mi ha stupito un bel personaggio mi ha preferito molto di più di frosi di di elsa molto gente si era lamentata per troppe canzoni ma forse anche ci sostanno il numero però non sono sono tutte concentrate buttate lì a primo tempo ma non lo dico più che la quarta volta ve lo dico e neanche quello si sa è quello che spiega grazie per lo spoiler toni che mi fa pensare ancora che vabbè farà un terzo andrea frozen musical ci devono essere canzoni forse mal distribuite tutte nella prima parte le preferisco ai pur bei disegni alla storia si poteva scrivere meglio e meno per bambini direi che la storia come dicevo prima a due può dare due significati uno per i bambini uno per gli adulti e che è che mi ha fatto capire perché tanti bambini avevano adorato questo film e tanti adulti e ne conosco lo adorano è un bel equilibrio è questo gli do totalmente merito questo film cuoco ti lascio la parola non non è un brutto film ma la gente lo ha acclamato come il film rivoluzionario se effettivamente un po troppo per gli effetti speciali promessi nelle ambientazioni neve tutto per me musiche suoni musica ne intendo con le canzoni musiche vai vai dica dica si soghi io devo devo dire questo cioè io andai a vedere qualche giorno prima dell'uscita perché fecero un'anteprima al a multità al centro commerciale a mezz'ora da casa mia andai rimasi abbastanza impressionato favorevolmente il film lo aspettavano tutti perché è una fiabba poi si sapeva che era diciamo ispirato alla storia della regina delle nevi di anderson quindi stavano tutti che drizzavano le orecchie perché chiaramente essendo che anderson e disney hanno fatto sempre delle belle cose assieme pensiamo al bruttonatroccolo del 39 all'episodio del soldatino di piombo di fantasia 2000 al quel corto strappacuore della piccola fiammiferaia che si trova come extra nei contenuti della sirenetta cioè anderson e disney si sono sempre trovati bene assieme la regina delle nevi era un vecchio era un vecchio progetto proprio di walt disney avrebbe dovuto fare negli anni 40 un film sulle fiabe di anderson progetto poi abortito avrebbe dovuto essere una coproduzione col col produttore samuel goldwin che poi in effetti produsse una biografia romanzata di anderson con danny k che si chiama il favoloso anderson se qualcuno di voi lo vuole recuperare un film estremamente disneyano peraltro con canzoni che sono rimaste famose doppiate in italiano da virgilio savona del quartetto cetra quindi altra cosa estremamente disneyana e c'è in questo film c'è un balletto ispirato alla sirenetta quindi siamo in pieno disney ma farlo io ho visto anche tanto di bella la bestia l'inseguimento con i lupi sì sì c'è tanto visto alcune scopiezzatine piccole piccole o citazioni non avete chiamato non l'ho ispirato come come idea alla regina delle nevi perché qui c'è la regina delle nevi che è proprio essa in effetti perché può comandare la neve può comandare poi ci sarà una piccola spiegazione anche nel secondo film sul sul perché in effetti è solo ispirato alla regina delle nevi cioè mentre lì c'era questa regina delle nevi che comandava le tormente praticamente rapiva un bambino e quindi l'amichetta del bambino gerta partiva e faceva un lungo viaggio fino ai confini del del mondo per trovare questo suo amichetto che la regina delle nevi aveva rapito qui si è trasformata la cosa le due sorelle separate quindi c'è sempre dalla fiaba originale viene fuori la separazione di due affetti e il viaggio di ricerca quindi molti si sono riconosciuti ecco perché il motivo di questo del grande successo di questo film che neanche la disney stessa ha capito all'inizio soprattutto la filiale italiana io andai alla preview della stagione il trailer era tutto basato su su cose comiche della renna amica di christophe e di olaf non si voleva proprio far pensare alla fiaba perché in quel periodo la disney pensava che le fiabe non vendessero ma non aveva capito niente perché fondamentalmente l'aspettavano tutti la regina delle nevi fatto da disney quindi loro si sono trovati con questa bomba orologeria che è una volta che il film è uscito e l'hanno visto ha funzionato il passaparola e quindi la gente ha cominciato a andare a vederlo vederlo rivederlo addirittura né nelle in america nei campus universitari si sono create le fazioni di chi gli piace vanno di chi piaceva elsa non vi dico quanti figli quante le bambine sono state chiamate anne elsa io ho assistito quell'anno l'estate dopo andai con un mio amico che cast me che era cast member a disneyland e facciamo la crociera disney proiettavano il film e c'era mi ricordo che c'era una bambina cinese di due anni tre anni che sapeva a memoria il film e sapeva a memoria la canzone e faceva addirittura col piede per terra imitando essa quando voleva fare il ghiaccio col piede durante la canzone e la mamma non ne poteva più perché questa bambina era completamente folgorata da elsa c'è c'è stato questo c'è per la prima volta si è creata una una simbiosi tra questi personaggi e il pubblico c'è un ed è stata talmente grande che in disney italia e soprattutto per quanto riguarda il fumetto c'è stato il rifiuto voi pensate che la graphic novel del film come le chiamano adesso cioè il fumetto ricavato dal film peraltro sceneggiato e disegnato da italiani ed è andato esaurito subito in tutto il mondo e pubblicato in tutto il mondo in tutte le delle quelle pubblicazioni principali della disney l'unico paese dove non era stato pubblicato all'uscita del film era l'italia e lo dissi io alla direttrice di topolino che allora la valentina dei poli in sede del comicon di napoli scusate ma lo volete fare questo fumetto che è esaurito in tutto il mondo o no cioè io trovo ancora oggi assurdo che non si sia creato per esempio su su topolino che è la rivista ammiraglia del di panini disney ricordo che una volta scrissi su facebook un commento perché non ritorna su topolino una rubrica tipo la segretaria per tutti la posta di anna ersa io sono convinto che ci sarebbe gente che per dire le 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 risposte che voi prendete e io saprei anche a chi affidarla pensavo al mio amico fabio michelini e lo sceneggiatore di topolino che è innamorato di anna ersa avrebbe potuto fare un redazionale che avrebbe fatto vendere copie su copie solo per quello adesso che stai dicendo veramente altre cose che mi hanno fatto un po tra le tessere generale tra l'altro else da va piccola da bambina ha i poteri e li sa usare bene o male no però come fa a usare che nessuno la tra virgolette addestrata usare i poteri di solito di vari film che vengono insegnate con i poteri si trovano i poteri hanno difficoltà a insegnarli devono trovare il maestro che gli insegnano usare poteri e da bambina sa già usare i poteri no fammi capire come va bene gli sono dati su un dono va bene ma poi fa a usare così bene da bambino io mi sono accorto quando ho visto non tutte hanno le ho viste ancora tutte le puntate del making of di frozen 2 che sono su disney bus vedo come fanno adesso dei riunioni di sceneggiatura sono tutti a un tavolo e ognuno porta le sue idee quindi quando sono più persone senza e non c'è in effetti una mente chiamiamola la mente superiore che le coordina tutte queste persone come era walt disney perché questo era il lavoro di walt disney ecco perché all'epoca si diceva walt disney snow white walt disney cinderella walt disney speter pan e sistemi sì perché era lui che poi alla fine pigliava i contributi di tutti e gli dava un'unicità il grosso problema delle sceneggiature disney in questi ultimi tempi è proprio che sono più persone che parlano quindi magari parlando più persone si si lima si controlla si fa lo storyboard eccetera però magari qualche buco essendoci più galli nel nel pollaio rimane magari non se ne accorgono allora perché copriamo un po di commenti perché stanno scrivendo veramente il mondo allora io mi ero fermato mi sono scritto il mondo mi sono scritti tutti ecco perché ho dovuto usare la funzione super chat non è brutta questa no letta mostredo ciao mostredo è arrivato anche nel raggiunto mostredo tanto mi è piaciuto quanto mi ha deluso il secondo ve lo dirò settimana prossima per secondo un frozen a settimana perché andrei forse ha avuto troppo successo commerciale che ha ubriacato il film e la d nel punto che i difetti sono diventati uno standard mostredo grande film grande fiaba grande vecchio stile disney lo diciamo in parte per lo meno in parte è vero perché se dove di film precedenti tranne rapunzel cioè si vedeva che loro c'è il fatto che loro prima lo inventavano loro lo stile però purtroppo negli ultimi tempi il problema è stato sempre questo quando hanno fatto una fiaba è andato sempre tutto bene favoloso piaciuto a tutti sappiamo la sirenetta bene la bestia eccetera eccetera allora va va bene la fiaba come ho detto già in qualche altra puntata loro si montano la testa e va bene possiamo fare a meno facciamo lasciamo stare fiaba e inventiamo noi qualcosa e allora cominciano a uscire cose come come i robinson come chicken little come vabbè anticipo big heroes x che è tutto fuorché disney cioè funziona anche ma non è un film disney non si partecipa solo e anche il prima ha ragione se lo chiamano anteprima è giusto che vada no ma che io lì figurati che andai a questa a questa presentazione disney perché mi chiese l'amico mio amico il mano russo che il cinema vittoria qui ad avversi dove abito io di andare in rappresentanza del cinema la disney a me mi invita amica qualche volta mi ha invitato qualche amico perché mi ha fatto entrare ma se fosse per quelli di aris ne ho mamma bellissimo stretto bellissimo il favoloso quando siamo siamo proprio nel campo del del classico più sfegatato cioè per quelli che hanno 50 anni quasi 57 come me quando si era piccoli era il film che facevano sempre a natale o sulla rai o sul canale 5 cioè proprio ve lo consiglio caldamente proprio disneyano al massimo e toni ci fa una previsione anche una promessa dicendoci che le sue bambine le chiamerà anne ed elsa auguri ti dico ma quando sono apporse loro due la gente ritiene le vecchie principesse disney venivano ritenute modelli sbagliati altri tempi magari diciamo che quelle delle vecchi film erano le principesse classiche di storie classiche cioè non è un modello creato da disney il modello biancaneve il modello cenerentore il modello bella tormentata sono nelle fiabbe originali dei grimmetti però cioè disney non hanno non ha inventato niente magari la sviluppate un pochino più psicologicamente ma il fulcro del personaggio era stato inventato dagli autori qui diciamo che loro hanno preso solo spunto dalla fiabba originale della regina delle nevi per creare questi due personaggi che chiaramente il pubblico quando ha visto che c'erano due principesse non più una peraltro separate da un problema grosso non ha capito più niente io ricordo che quando praticamente nel finale del film nel pre finale anna sa c'è il cuore di ghiaccio deve essere salvato dal bacio di hans che lei crede il suo innamorato ma in realtà lo sappiamo possiamo dire a delle mire pregna il bacio del vero amore mi ricordo il vero amore eccetera eccetera quando poi anzi si chiudava di sposarla io quando ho visto il film la prima volta con fabio michelin eravamo al metropolitano di napoli tutto una platea che era al 70 per cento fatta anche da tutti e attenzione è stato io ho sentito una voce adulta dietro di me che quando anna non ha avuto il bacio il napoletano ha fatto che si è sentito in tutta la sala o maron cioè quindi questo signore che era penso ma più che adulto stava lì aspettando la cala cosa classica della fiabba poi quello che chiaramente ha sconvolto il finale quello con la tormenta di neve che si è scatenata di con con anna che sta correndo verso christophe quando capisce che è lui che può salvarla dal cuore di ghiaccio elsa che correndo pure lei anzi che vuole ammazzare elsa e anna il sacrificio di anna che si frappone tra ans e elsa in quel momento c'è quella cosa la cosa meravigliosa con l'animazione favolosa di anna che diventa di ghiaccio in quel momento che esala l'ultimo respiro con quello che ho fatto anch'io con quell'ultimo respiro salva la sorella quindi c'è il fatto che l'amore non è più quello tra uomo e donna ma può essere anche quello tra sorelle e quella quella scena straziante di quell'urlo di elsa tra l'altro bellissimo il doppiaggio di serena utiere più bello dell'originale quell'urlo disperato anna c'è chi ha perso una sorella la secondo me ha fatto una cosa che non ha capito più niente e quando ho visto quella quell'immagine di elsa barbicata anna di ghiaccio detto questa è una versione moderna della pietà è un'altra cosa finissima dato che i poteri di elsa sono scatenati dalla paura nell'attimo in cui lei prova il dolore il dolore della morte della sorella la tempesta si placa che non ho mai visto una una rappresentazione così perfetta di una cosa che ho provato anch'io nella mia vita il dolore toglie la paura ma come dicevo io una cosa è molto forti e secondo me in disney pochi soprattutto in italia pochi l'hanno capito perché quando tempo io l'ho adorato è lo dico l'ho detto prima anche per il primo tempo che dicono considero quasi due film tempi diversi primo film per bambini a prima parte seconda parte più un po più adulti non stavo raccontando prima quando io proposti su facebook perché su topolino non fate la posta di anne elsa un famoso sceneggiatore e disegnatore di un famoso sceneggiatore di non faccio il nome comunque di un famoso collaboratore di topolino tra i maggiori mi rispose anne elsa ma siete seri io risposi serissimi del resto se tu fossi andato a disneyland parigi e avessi visto cosa succede agli adulti quando escono anne elsa sul carro o c'è il periodo che era uscito il film a disneyland parigi d'inverno facevano la cerimonia a mezzogiorno di anne elsa che uscivano sul loro sull'oro slitta trainata dal cavallo e davano il benvenuto agli ospiti di disneyland io mi lascio immaginare che cosa succedeva in mezzo al pubblico con let it go che andava dagli artoparlanti cantata in tutte le lingue il pubblico impazziva cioè secondo me chi lavora in questo campo sceneggiatori disegnatori dovrebbero avere avere il dovere morale di capire cosa vuole il pubblico allora se d'accordo è un è perfetto che non ti piace la fiabba non ti piacciono anne elsa biancaneve bandita dalle pagine di topolino da una vita cioè se non era biancaneve a disney italia non esisterebbe neanche però questo è un altro discorso però tu che ci lavori in un giornale devi capire anche il pubblico a un certo punto cosa vuole se c'hai due personaggi che sono diventati talmente iconici perché anne elsa sono delle icone e inutile sono le icone del nuovo millennio per quanto riguarda disney io esattamente ho visto con loro quello che è successo con biancaneve nel 39 sono le prime i primi personaggi dei film disney che veramente sono diventate icone come lo fu biancaneve a suo tempo non è una cosa da poco e andrebbe molto considerata forse anche di più di quanto non venga considerata purtroppo il marketing princess della disney attuale lo vuole vuole che siano personaggi destinati solo al pubblico delle bambine che poi questo non si capisce cioè non capisco perché un maschietto non possa andare a prezzo come era ai tempi nostri a una bella guaglione come potevano essere anno elsa tra l'altro io vi ricordo come sono dedicato a dirlo che loro due le ho riviste in carne d'orso quindi da un punto di vista esiste anche il live action sulla serie tv sì io l'ho vista prima del film lo visterà e ci sono le stesse doppiatrici del cartone anche sulle napoletanissime serena otieri e serena rossi che per bisogno bravissime e c'è anche l'ho pezza che doppia anche sulla serie tv grampapà quindi c'è stato anche la voglia di doppiaggio anche l'hanno parla sopra una serie della ebc che è della disney e penso che ci sarà anche su disney plus quindi si potrà rivedere assolutamente ve lo consiglio quella serie la perché ci sono tante tante citazioni ai classici disney disney a me non mi era dispiaciuto e a me fa anche michelini che ha visto le puntate dedicate a messa mi dice sempre guarda non sia che sono favolose sono fatte benissimo e sono proprio loro sì 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 devo dire che tanto di cappella via ricopriamo mostrata area disneyland parise in costruzione a randelle e sì infatti c'è la sala nei studios il paese di fruzen in toni polemica non è vero non sul topolino il giorno di natale 2017 fecero una storia ad elsa e olaf c'è un documentario ufficiale di fruzen per caso è narrato da un giovanotto i colori che gira tra gli studi non me lo ricordo questo ci sono i documentari che stanno adesso su disney plus di frozen 2 che sono una serie a puntate si poi in effetti hanno fatto quell'unica storia sul topolino però poi tutte le storie a fumetti sono state pubblicate a parte oppure dirottate proprio sul mentire delle di frozen proprio invece secondo me andrebbero pubblicate più spesso proprio su topolino che topolino un troppo adesso è diventato solo topi e paperi e molto riduttivo prima o poi vi ho detto devo ricomprare il topolino una volta per rileggere lo comando perché su un curioso e spaventoso ricordo che negli anni 90 quando un film disney era il cinema usciva un modo con un mondo commerciale che durava un paio di mesi ma quello di fronzer hanno reso un impero commerciale senza fine diciamo che sono stati corretti a farlo perché all'inizio quando il film è uscito non si trovava nulla nei negozi io ricordo che volevo i timbri multi print quelli che se c'è la multi print è una società che ha dagli anni 50 fabbrica timbri con tutti i personaggi disney alla licenza disney e ha fatto anche fruze anche a milano dove c'è la fabbrica sono andato a chiedervi non li avevano li ho dovuti comprare a suo tempo su su amazon su amazon dall'inghilterra prodotto italiano poi dopo sette otto mesi sono cominciate ad arrivare le cose in italia ma all'inizio non c'era assolutamente nulla francesco dice è un peccato tanto ciao francesco non ti abbiamo salutato no ciao francesco è un peccato che frozen venga sottovalutato elsa è diventato il primo spirito guida avesse anch'io lo stesso potere di elsa toni polemica alfonso ciao alfonso a tutti scusate ritorno alfonso andrea non male approfondimento dei personaggi in one time c'era una volta che dicevo prima se avessero preso di più per la storia originale non sarebbero stati male e anche francesco con farlo come dicevo io ti scrivendo che la serie c'era una volta qualcosa di meravigliosa se dovessero farci un live action su frozen perché si lo faranno prima o poi voglio proprio gli stessi attori di adesso è Anna e altri